Troppo buoni fagottini di melanzane? Super filanti e buonissimi! Prepariamoli insieme! Sono facilissimi, a fetta la melanzana, a fette sottili e poi grigliali su una bistecchiera. Incrocia due fette di melanzana, al centro aggiungi del prosciutto cotto un pezzo di provola, richiudi e forma un fagottino, infilzano in uno sticchino di legno e passano il fagottino, prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Al termine, quando tutti i fagottini sono pronti, potete cuocerli al forno oppure friggerli in padella come ho fatto io. Falle asciugare su carta assorbente e servi ed eccoli qui super filanti e morbidissimi! Buon appetito amici! Ciao!